Bella a tutti da Big Pork, eccoci qua in questo nuovo face to face, questo face to face è stato creato da FranMods Vi lascio il suo canale in descrizione regà Dire, eccoci qua in questo face to face, questo face to face è stato creato, non è che uno si impiccia, di più Andiamo, andiamo Porto l'Alberto, uh è piovoso regà, perché? Aveva piovuto prima, l'ho bagnato regà Andiamo, andiamo, belli veloci, belli rapidi Allora, sembra un face to face tranquillo eh Non estremo, tranne quella parte lì Via via, gira, 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 veloce Ok, poi ciò che morito là Allora, facciamo attenzione qui regà Mamma mia, belli primari Checkpoint Oh, scusate regà, mi stavo quasi a staruzzare, quindi ho messo un taglio perché ho tossito leggermente, andiamo, andiamo Vorrei o sirena Oh, 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 non va Cristian Aiuto, 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 aiuto regà, passiamo qui Ok, ok, queste barriere blu, regà, sono strane Non è che era, che hanno patchato qualche oggetto, regà, vedete quelle barriere blu in alto Di solito succede questo quando si usano oggetti moddati, regà, quindi sparisce l'oggetto E praticamente la Rockstar sostituisce Quell'oggetto moddato con una barriere blu No, no, Alberto, non me la freghi la prima, andiamo, andiamo Non posso urlare anche questa volta perché sono le tre di notte, regà Cosa abbiamo? Visione, eh? No, coquette qualcosa, regà, non mi ricordo come si chiama Comunque siamo belli i secondi Qua è pieno di autorampa, regà Ok, salta Oh no, zitti, zitti, facciandola bene, regà, spettacolare E adesso abbiamo l'autorampa, regà Questo è pericoloso, guarda lo giove Allora, abbiamo Alberto sempre primero, regà Dove è passato Alberto? Passo pure io qui Sì, sì, bella traiettoria qui Andiamo, 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 belli veloci Belli rapidi che sta a fare sto pallone qui Freniamo Ok, così usciamo più veloci Attiviamo pure il turbo No, no, gira, gira, perché non ha girato, regà? Al massimo, al massimo, più veloci che possiamo Alberto, aiuto, aiuto, aiuto Siamo vivi, siamo vivi, tranquilli Salta Grazie Molto, molto gentile, mi dicono, eh Via, 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 dove sta Alberto? Allora, stai lì, stai lì Stai tranquilli Noi freniamo prima Monkei Sì, sì, l'avevo vista da salta Sì, ciao, regà Da Alberto Modder la macchina Allora, questa macchina io non ce l'ho modificata Che peccato Però siamo primeri Che c'è, frega Formula 1, meno male, meno male Frega Flippiamo? Oh, 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 ci è andata bene, ci è andata bene Via, 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 veloci Ah, cammino e rampa qui, pericoloso Giovi, te trollo T'ho preso Giovi Oh, povero Giovi Mamma mia, ci ho capito niente Allora, prendiamo subito questo check Perfetto, così Da veloce, veloce, cammincini Quanto di check 10 su 20 Piccolino questo face to face Non è così grande Ma comunque spettacolare Anche perché è bello spazioso, regà È veramente perfetto Allora, facciamo attenzione Bandit Allora No, Lito No, 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 Cristian Va bene così, va bene così Non vi preoccupate Però adesso mi supera il primero Eccolo, Alberto, regà Allora No, 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 Busman Cos'è, cos'è, cos'è? La supera di GTA, sì, sì Andiamo, andiamo Belli veloci Io qua c'ho pure le ruote F1 Però non c'ho la livrea Mamma mia Come abbiamo schivato Tutto E come stiamo schivando tuttora Ok Eccolo lì, Alberto Sì, sì Entity Bella, bella questa L'ho modificata come si deve, regà Verde lime Metallico Spettacolare Mamma mia C'è un'autorampa Ok, ok Qua possiamo pure saltare, vero? Sì, sì Cambiamo la rampa Perché la suon si Andiamo, andiamo Mamma mia Che face to face Adrenalinico Perché è tutto veloce E non c'è rischio E uno si trolla qui Allora Qua la traiettoria migliore Sarebbe questa No Che peccato Andiamo, andiamo Belli veloci Scusate, regà Allora Alberto è riuscito a prendere il check Sì Cos'è? Non mi ricordo Novak No, non credo Non credo Siamo così questo Allora Questi sono i veicoli Novi che non mi ricordo Ma il nome, regà No, no Che perdo tempo Guzman Belli veloci Belli veloci, regà Allora Dov'è Alberto? Sta lì È lui? Sì, sì, sì Non siamo così lontani Brioso E lui aveva Non ho visto che macchina Aveva la club Possibile che c'eva la club Credo di sì È rimasto trollato No, no, no C'è la brioso No, club 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 Corrote F1 Non l'ho mai vista La club Corrote F1 Allora Aspettate, aspettate Non ho potuto vedere Un occhio di Alberto Autorampa, regà Allora, veloce, veloce Quanti check, quanti check 16 su 20, regà Quasi finita la gara Allora È impossibile che rimane trollato Regà, scusatemi Ok Cosa abbiamo? Cosa abbiamo qui? Dai che devo recuperare Alberto, regà Ok Fuoristrada della polizia, regà Guardate dove passa lui Vediamo se rimane trollato, regà Sì Ha beccato il traffico Ha beccato il traffico Sta qui No, no, no Che succede qua? Posto di blocco Veloce, veloce Bello, veloce Sì, passiamo per di qua No, c'è autorampa lì Mamma mia Siamo vivi, siamo vivi, sui Andiamo, andiamo Belli veloci 5 minuti di face to face, regà Turbo, turbo, turbo Mamma mia come ho schivato Rapido, rapido, rapido Mamma mia, pericoloso, pericoloso Ok, ok Siamo andati bene, regà Alberto, non c'è più Qui cosa abbiamo? Aspettate C'è una rampa E dopo c'è il traguardo, regà C'è il traguardo E' finito il face to face Non ce lo voglio, crede Allora Facciamo attenzione qui No, no, qua ogni volta Rimango trollato No, 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 no Dov'è Alberto? Tutto ok, salto Andovai, andovai Ok Vediamo un po' cosa c'è qui Aspettate Ok Questo camioncino, regà Dai che voglio prendere Questa bella primera, eh Dai, veloce, veloce Camioncino Eccolo qua, Alberto, regà Allora Facciamo attenzione Perché qualcuno è fermo Non lo so Dai, sui, sui, sui Cori, corri, corri, corri Secondo me questa è una bella primera Ve lo dico io Una primera Piccolina in questo face to face Minuscolo, regà Però fantastico Qua dobbiamo fare attenzione Perché Mamma mia Chi c'è, chi c'è qui No, no, no No, no Vusimo, Vusimo, Vusimo Vusimo Che sta a combina? Au Au, regà No, no, non ce lo voglio credere Vusimo Da quando sei così cattivo? Tanto Alberto non mi avrebbe fregato la primera Verò, beh Guarda lì Pure l'Alberto vogliono trollare, regà Non ce lo voglio credere, eh Lo fanno passare ad Alberto? No, no, non mi fa conclude Sì, ce l'ha fatta Alberto Credo di sì, eh Mamma mia Che suini trolloni alla fine, eh Ci hanno fatto il posto di blocco Con il camion rampa, regà Giovi ha concluso terzo Credo di sì Comunque Face to face Che ho mandato ieri, regà Praticamente Nova Christian Stava laggando E mi stava aspettando Al traguardo Mi ha detto Quindi Era arrivato lui Primero Ma siccome laggava Rimaneva fermo E io credevo che Ero primero io E invece c'era Nova Christian Che mi aspettava Però non c'era Perché il laggava Questo, regà Comunque sì Se vi è piaciuto Questo face to face Stremo Lasciate un bel mi piace Iscrivetevi al canale Fatemi sapere Se vi piace L'idea di questi face to face Da big pork E noi ci becchiamo Al prossimo video Bella